Ciao ragazzi! In questo terzo tutorial sulla formattazione condizionale vediamo come si possono evidenziare i dati mediante i set d'icone che Excel ci mette a disposizione ed impariamo a modificare le regole di formattazione predefinite relative a questa categoria. Iniziamo! In queste due tabelle sono riportate le proprietà alimentari ed il contenuto calorico della carne e del pesce. Come abbiamo già detto nei tutorial precedenti leggere tabelle di questo tipo risulta difficile poiché i dati sono puramente numerici ed individuare ad esempio i valori più elevati ad occhio risulta abbastanza difficile. Utilizzando i set d'icone che Excel ci mette a disposizione come si può notare in questo esempio è possibile indicare visivamente i valori compresi in un determinato intervallo secondo una scala numerica oppure percentuale. Excel ci mette a disposizione infatti vari set d'icone sia di tipo direzionale, cioè mediante frecce colorate e orientate, mediante forme, mediante indicatori di vario tipo oppure mediante icone di classificazione. Vediamo ora come si procede quando si vuole applicare una formatazione condizionale con set d'icone. innanzitutto cancelliamo le regole dalle celle selezionate in modo da eseguire da capo l'esercizio. Siccome i dati contenuti in ogni colonna sono di natura diversa dobbiamo formattare ogni colonna singolarmente e vi ricordo che selezionare tutta la tabella produrrebbe risultati non soddisfacenti. A questo punto dalla scheda home nel gruppo stili selezioniamo formatazione condizionale set d'icone e decidiamo ad esempio di utilizzare tre frecce. Vedremo ora che quando si gestiscono le opzioni della formatazione condizionale con set d'icone non è tanto importante il tipo di icona scelta quanto il numero delle icone presenti. ad esempio ci sono formatazioni condizionali a tre icone, a quattro icone e a cinque icone. Applichiamo ora una formatazione condizionale a quattro icone e nella terza colonna una formatazione condizionale con cinque icone. Clicchiamo ora in una cella contenente una formatazione condizionale a tre icone ed andiamo a gestire le regole di questa formatazione. selezioniamo la nostra formatazione e facciamo modifica regola. Nella wizard che si apre possiamo gestire come al solito il tipo di formatazione condizionale scelta possiamo invertire l'ordine delle icone come si può notare infatti qui in basso a sinistra cliccando sul pulsante le icone si invertono possiamo cambiare lo stile di icona e qui sono presenti tutti gli stili sia a tre che a quattro che a cinque icone possiamo inoltre decidere di mostrare solo l'icona e non il valore numerico in cella stabilire se utilizzare le icone predefinite di Excel oppure combinarle fra di loro mettendo ad esempio un semaforo al posto di una freccia e regolare i vari parametri ad esempio l'operatore matematico utilizzato maggiore uguale oppure maggiore il valore numerico ed il tipo selezionando fra le quattro opzioni numero in cui possiamo inserire qui un numero specifico percentuale che ha il valore predefinito formula che tratteremo nel corso di Excel avanzato e percentile che può utilizzare chi ha conoscenze di statistica se volete sapere cos'è un percentile fatemelo sapere nei commenti le stesse opzioni sono presenti qui in corrispondenza della freccia gialla possiamo regolare ancora tutti i parametri mentre per quanto riguarda la freccia rossa questa viene impostata come conseguenza dei valori settati in precedenza stabiliamo ad esempio di utilizzare al posto della freccia un pallino con la X e confermiamo con OK e poi ancora con OK siccome ho deciso di togliere i valori numerici l'icona si porta al centro della cella e come vediamo al posto della freccia verde c'è un semaforo verde e al posto della freccia rossa il pallino con la X senza soffermarci troppo nei dettagli vi faccio vedere che quando selezioniamo set a 4 icone ed andiamo a gestire le regole di formattazione ci troviamo le stesse opzioni viste in precedenza ma qua abbiamo 4 icone e qua 3 parametri da regolare il quarto si regola di conseguenza e quando selezioniamo set a 5 icone i parametri da regolare diventano 4 ed il quinto si regola di conseguenza come al solito le immagini possono essere ricombinate a nostro piacere e i parametri matematici sono sempre gli stessi in tutti i menu a tendina l'opzione predefinita è sempre percentuale e quando abbiamo 5 icone le percentuali variano di 20 in 20 quando selezioniamo 4 icone le percentuali variano di 25 in 25 e quando selezioniamo set a 3 icone le percentuali variano di 33 in 33 per il momento seleziono questo set a 3 icone mostro solamente le icone e confermo con l'ok e lascio a voi il compito di sperimentare gli altri set d'icone combinandoli in modo opportuno con questo abbiamo concluso io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non è chiaro e se non l'avete già fatto a considerare l'opportunità di iscrivervi al canale in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni nel prossimo tutorial il più importante sulla formattazione condizionale tratteremo le regole di evidenziazione celle e impareremo a combinarle fra di loro modificandole in modo opportuno e riordinandole vi aspetto ciao ciao